Musica Potrebbe essere stato un'overdosa a stroncare Sauro Martinelli, il cinquantenne ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di mercoledì sul greto del torrente Sellina in via Salvadori, alle porte di Arezzo, poco lontano dalla strada statale 73. A fare la drammatica scoperta il proprietario di un terreno poco distante da dove è stato ritrovato il cadavere dell'uomo che risultava scomparso dalla scorsa domenica quando non aveva fatto più ritorno nella casa di via Libia nel quartiere di Saione dove abitava con la madre una 93enne. Il fratello dell'uomo aveva denunciato la scomparsa del cinquantenne nei giorni scorsi. Erano così scattate le ricerche che si erano concentrate anche sul parco del Pionta, luogo che pare fosse frequentato solitamente da Sauro Martinelli. Sul posto del ritrovamento sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e del SAF che hanno recuperato il cadavere dal torrente. Il PM Chiara Pistolesi, titolare dell'inchiesta, ha disposto un'immediata ispezione medico-legale all'ospedale San Donato di Arezzo in vista dell'autopsia. Spetterà poi all'esame autoptico chiarire le cause del decesso, ma stando alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un overdose. Sul corpo dell'uomo non ci sarebbero inoltre segni evidenti di violenza, presenti invece alcuni graffi sul volto ma compatibili con la caduta nel greto del torrente. Il cinquattene infine sarebbe stato notato a discutere animatamente nei giorni scorsi con alcuni tunesini legati al giro dello spaccio di Saione.